Buongiorno mio nuovo caro amico Costas e Leopoulos, un saluto dalla Spagna da questo vecchio tenore da 71 anni che ancora ha l'illusione per il canto, per cantare qualche cosa. Sono stato il primo allievo dal grandissimo Alfredo Krauss e da lui ho imparato la tecnica che mi permette ancora di cantare. Bene, io voglio cantarti un'aria molto conosciuta e molto bella, anche difficile certamente, come Che gelida manina dalla bohème. Che gelida manina se la lasci riscaldar, cerco al che giova al buio. Ma per fortuna è una notte di luna, e qui in l'annuna la via non si trova. Mi cina, aspetti signorina, le ridò con due parole, chi son, chi son e che faccio come sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo e come vivo. Mi cina, aspetti signorina, le ridò con due parole, chi son, chi son, sono un poeta, che cosa faccio? Vivo! In povertà mia lieta, siamo una gran signore, rimedini d'amore per sogni e per chiedere e per castelli d'aria. L'anima milionaria L'anima milionaria L'anima milionaria Scriviti Tu stossi mille vuoi, ma il furto non matola. Poiché, poiché m'ha preso stanza la stella non sa. Poiché mi conoscete, parlate voi, ne parlate chi siete. Mi piace a me. Bene, è una meravigliosa aria e impegnativa per il tenore, soprattutto per il tenore della mia età. Però con illusione e con tecnica si può fare queste cose. Bene, un grande abbraccio dalla Spagna, dalla città, dalla Corugna, la Corugna sopra Portogallo e insieme all'Atlantico. Io amo la Grecia. Sono stato tanti anni fa, nell'anno 1992, con mia moglie. Abbiamo stato a Atenas, come no, e abbiamo fatto un corso per il Peloponneso, Nauplia, Megalopolis, Delfos e tanti posti meravigliosi. Olimpia, certamente, le piccole isole di Idra Poros e l'altra non la ricordo. Idra, Idra Poros, si, le tre. Bene, un grande abbraccio dunque e pariamo. Ciao. E qui ce la? Ok. Sinon 그냥 tutto per lo spazio.